eccoci qui con Sara Franceschi che ha appena finito i 200 rana una gara bellissima da un punto di vista tecnico dicevamo se ce la vuoi commentare con parole tue si è sempre stata una gara che volevo curare al meglio e ho sempre cercato di farla insieme ai misti poi mi sono concentrati più sui misti ma la rana mi è sempre venuta bene fin da piccola e soprattutto la tecnica in sé per sé quindi in vasca lunga quando ti distendi molto nella rana poi i risultati vengono da soli e poi comunque ha colpito anche la gestione di ogni 50 sì esatto di passare più lunga più fluida per fare la gara in progressione veramente veramente una gara molto molto interessante non siamo abituati a vederti nei 200 rana però potrebbe diventare una delle tue gare quindi sì diciamo che è una gara che mi piace quindi vediamo un attimo anche con le altre gare come saranno conciliate con gli assoluti però sì voglio puntare anche a questa gara quindi ci stai facendo un pensierino anche per riccione ma si vediamo come vengano gli allenamenti però penso di sì dai e allora ci vediamo a riccione sì a presto ciao grazie